Buonasera, buonasera a tutti, bentornati, benvenuti ad una nuova stagione di Aspasso tra i nuvole, c'è Marco, fa che non ci capiamo, Marco è qui. Eccoci, ciao a tutti, ciao Marco, ciao Rino, ben ritrovato, fino a qualche giorno fa la domanda era ma stasera usciamo in bici, usciamo quando si è in vacanza, e invece adesso che tempo fa? Anche per uscire in bici? La domanda più gettonata da circa 10-15 giorni che ho ricevuto è quando finisce sto caldo? Ma tu lo sai che poi appena fanno due giorni freddo? Lo so, lo so, infatti a tutti quanti ho detto non parlate poi quando farà freddo. Allora, che novità proponiamo? Perché noi ci abbiamo qualche novità. Sì, dai, qualche novità, diciamo intanto, allora a livello didattico all'inizio del mese, quindi in questo caso parleremo della situazione, andremo a vedere com'è stata la stagione, in questo caso l'estate, no? Però poi dalle puntate successive, sai di che cosa parleremo nelle pillole didattiche? Di che? Parleremo principalmente della storia della meteorologia, quindi com'è nata la meteorologia, gli strumenti, anemometro, termometro, la mano, sei primi tempi penso che c'era, anche la mano, la rosa dei venti l'andremo a rovistare, come sono nati i nomi, che significa che non si viene? Questo mi piace. Ecco, queste cose qui andremo a fare. Ma la musica ce l'abbiamo? La musica, ecco, bellissimo, la musica che accompagnerà la copertina che ci annuncia poi il weekend, sarà una classifica delle migliori canzoni a partire dal 1969, perché egoisticamente partiamo dal mio anno di nascita. E quindi settembre lo dedichiamo totalmente alla classifica del 1969. Va bene. E poi, ultima cosa, giusto per dire, parleremo anche dei record climatici a Teramo città dal 1924 al 2024, quindi fra un po' verso la fine della puntata parleremo anche di questo. Lo scopriremo vivendo, ma come cominciamo? Iniziamo con la, analizziamo quest'estate, perché tutti quanti a dire caldo è caldo, andiamo a capire perché ha fatto caldo. Freddo, freddo non ha fatto. Sicuramente, infatti, andiamo a capire perché ha fatto caldo, quali sono i due protagonisti principali. Intanto uno è che era estate. Che era estate, sicuro. Guarda, partiamo dal, ho fatto delle mappe, le vediamo velocemente, dal primo giugno. Primo giugno ancora eravamo in una situazione, diciamo, primaverile. Come vedi, quella B stava piazzata soprattutto al nord Italia, dove l'estate è iniziata a metà luglio, quasi. E da noi ancora faceva abbastanza frescolino. Sulla carta di destro le temperature ai famosi 850 ectopascali, cioè 1.500, per far capire poi, andando avanti con le mappe, la differenza netta che c'è stata tra l'Europa del nord e quella mediterranea. Questo è il primo giugno. Questo è, diciamo, la prima parte di giugno. Poi il 16 giugno, quindi seconda mappa, ecco che inizia a vedersi chiaramente quale sarà lo schema. Pietro, puoi andare con la mappa? Eccola qui. Lo schema che praticamente ci accompagnerà tutta l'estate. Abbiamo quella A sul Mediterraneo, anzi partiamo da quella dell'anticicone delle Azzorre, che associata alla A mediterranea, quindi con supporto di aria calda nord africana, ci ha praticamente accompagnato fino adesso. Ma l'altro protagonista è stata la B che vedi sopra, cioè la depressione chiamata islandese, in questo caso era puntata sulla Gran Bretagna, che praticamente ha fatto sì che nel nord Europa l'estate quasi non c'è stata. Guarda lì le temperature. Inghilterra più 4, noi stiamo già al sud. Sempre a 1.500. Sempre ai famosi 1.500. Mentre noi siamo alla più 20. Andiamo avanti velocemente, lo schema l'abbiamo capito. Andiamo al primo di luglio, quindi eccola qui, guarda lì, le 2A stanno lì e le B stanno sopra. Non ci piove. Le temperature per iniziano a lievitare sempre di più. In zona centro-sud, quindi anche in Abruzza addirittura la più 22, al nord Italia la più 16 e in Inghilterra più 4. Abbiamo ben 18 gradi di differenza. Ma senti l'aria? Sempre ai famosi 1.500. 15 luglio, quindi andiamo a vedere subito le altre mappe per farvi solo capire che non è cambiato nulla. 2B sopra, a sotto. Non è cambiato. L'unica cosa che cambia è che la temperatura inizia a lievitare sempre di più e quindi ancora più caldo. La più 24... La più 24 tipo ai pratitivo, facciamo, semplifichiamo. Sì, sì, sì. La più 24 praticamente che abbraccia quasi tutta l'Italia e in Inghilterra la più 6, quindi ancora frescolino. Sì. Andiamo al primo di agosto, velocemente, e ci ritroviamo con uno schema pressoché simile, con la differenza che l'ha conquista anche l'Europa. Quindi diciamo, l'Europa continentale perlomeno, diciamo che le temperature estive raggiungono anche la Spagna, la Penisola Iberica, la Francia, la Germania, che fino a luglio hanno vissuto al fresco. Andiamo a 16 di agosto, quindi l'ultima parte dell'estate, con la situazione che non cambia, la B sempre su e le A. Quindi i due protagonisti dell'estate sono stati praticamente la depressione di Islanda su e l'anticiclone, direi, tra virgolette, a Zorriano è esagerato, però l'anticiclone, non quello africano, perché se ti ricordi Pietro, se mi fai... A Dorriano africano. Se mi fai, voglio far spiegare una cosa velocemente e poi andiamo... Ma intanto due cafoni, non abbiamo salutato Pietro, il nostro re Maggio Baldassare. Assolutamente, Pietro, Pietro. Che è dietro... Sì, è vero. Volevo far vedere una cosa, i famosi quelli, diciamo, affondi nordafricani, le ondate calde nordafricane, in realtà sono quelli in cui qui, sulla zona dell'Atlantico, c'è l'affondo fresco che arriva in Africa e poi risale da noi. Come vedi, noi non ce l'abbiamo avuto, abbiamo avuto, chiamiamolo, un anticiclone a Zorriano camuffato con aria calda nordafricana, che praticamente ha reso quest'estate, diciamo, persistente di caldo, ma in realtà picchi veramente esagerati ne abbiamo avuti pochissimi. E l'umidità magari percepita al mare... Non è percepita, l'umidità al mare... Sì, sì, l'umidità è aumentata perché poi purtroppo, diciamo... Una temperatura calda. Sì, anche perché le temperature delle acque del mare, soprattutto l'Adriatico, erano veramente bollenti. Sì, più 30, più 31. Quindi concludiamo, visto questa situazione, ecco il risultato finale che abbiamo con la mappa successiva, che ci indica, qui sulla sinistra, questa sulla sinistra è l'Europa, come vedi, verde, bianca, in qualche punto di azzurro, e quindi temperature sotto la media o in media dei 30 anni, 1990-2020. In tutto il resto dell'Europa, soprattutto in Italia, abbiamo il giallo o addirittura l'arancio. Quindi, sinteticamente, come si può vedere nella mappa di destra, se vuoi Pietro lo puoi mettere a schermo pieno, così si vedono anche i valori, abbiamo avuto complessivamente al nord-ovest quasi un'estate normale, 0,5-1 grado. Caldo, ma non esagerato, nel resto del nord. Il centro Italia, invece, con un grado e mezzo, 2, sopra la media, e addirittura al sud, punte addirittura vicine ai 3 gradi di più sulla Puglia. Vediamolo anche, ultimissima mappa a livello regionale, con i dati, ho preso il confronto 2023-2024, di una serie di stazioni. Queste sono stazioni gestite dalla regione Abruzzo, quindi non sono di privati. Poi, ognuno si può vedere liberamente il suo. La prima colonna sono i dati medi dell'estate 2024, quelli altri del 2023, quindi la differenza, l'incremento. Abbiamo vinto come 2024. A livello, ci limitiamo a Terramo, che ho evidenziato il rosso, zona Ponzano la stazione sta, 26,9 la media, questa media intesa come la media tra le massime e le minime, 26,9 nel 2023, che comunque è stata un'estate calda, 25,2, a testimonianza che quest'anno ha fatto più caldo del 2023. A questo punto, chiusa la parentesi, andiamo in previsione. Oh, previsione per domani. Sì, si parte con il... La prima previsione della stagione. Esatto, mercoledì 4 settembre. Sì, andiamolo a mettere a schermo pieno che così forse si riesce a vedere meglio. Ecco, guarda... L'Italia è rossa. Lì, perché partiamo con questa mappa. Noi abbiamo ancora, siamo sotto l'egemonia, diciamo, anticiclonica, ma da domani avremo questa saccatura nordatlantica, sempre pilotata dalla solita depressione. No, più che svedese, no, più che svedese, islandese. Ah, islandese. Però con minimo centrato sulla Gran Bretagna, che inizia a spingere in modo significativo, c'è quella saccatura che affonda tra Penisie Liberiche e Francia e che successivamente in parte raggiungerà l'Italia. Come vedi, ho messo quelle frecce gialle qui che vanno verso sud, a significare che l'anticiclone verrà respinto verso sud, quindi avremo ancora temperature piuttosto calde, ma la dinamicità aumenterà. E lo vediamo subito con la mappa delle precipitazioni, che ci evidenzia in modo chiaro, vedi, in Italia, eccola qui la situazione. Abbiamo sulla parte destra, quindi che ci comprende anche l'Abruzzo, questa è la sintesi della giornata, ma possiamo anche qui dire che i fenomeni, le precipitazioni, saranno concentrate nelle ore pomeridiane. Quindi siamo in attività convettiva temporale. E vicino ai rilievi per quanto ci riguarda? Sì, esatto. Come vedi, diciamo adesso non ho fatto la mappa a livello abruzzese, ma i temporali si svilupperanno soprattutto nei settori occidentali. Sembra di riconoscere la zona del Gran Sasso. In parte andranno a sfociare anche nei settori adriatici, soprattutto le zone più interne. Non si può escludere che qualcosa arrivi anche al mare, però normalmente la cosa da evidenziare però è questa. Qui non si tratta più di temporali, ma si tratta di una vera e propria perturbazione atlantica. Compatta. Qui entrerà in azione nel Mediterraneo occidentale e andrà nella parte finale di domani a coinvolgere soprattutto il nord ovest, con precipitazioni che per domani saranno ancora, tra virgolette, normali, ma da giovedì cambieranno in peggio e lo vediamo fra un attimo. Andiamo a vedere invece le temperature. Vediamo. Qui dedicate tutte all'Abruzzo. Domani mattina ci sveglieremo con temperature piuttosto fresche, decisamente fresche nei settori aquilani come sempre, ma anche nelle zone collinari alla fine saremo sui 20 e 21 gradi. Quello che vedete, i 22, 23 e 24 invece sono le temperature delle zone di mare. Sì. Per quanto riguarda invece le massime, ecco che i valori scenderanno rispetto. Scendono, vero? Sì, scendono un pochettino. Probabilmente riusciremo a stare sotto i 30 gradi o al massimo si arriverà sui 30. Sì, buono. Andiamo subito velocemente a giovedì, quindi andiamo a vedere che cosa accadrà giovedì. Eccola qui. Abbia, prima vediamo la schermo pieno così si riesce a capire anche dove è l'Italia. Giovedì 5 settembre. Ecco, quella famosa B finalmente riesce, finalmente dico rispetto all'estate, a scendere sotto la Gran Bretagna. Si andrà a approfondire praticamente tra Francia e Penisola Iberica, ma nella sua ampia circolazione ciclonica andrà a coinvolgere anche soprattutto le regioni di nord-ovest, diciamo il nord e soprattutto le zone tirreniche. Mentre come al solito quando viene da ovest i settori adriatici sono un po' più riparati. Vediamo velocemente la mappa delle precipitazioni per capire appunto il vero maltempo. Eccolo qui, guarda qui che cosa succede, colorazioni intensissime al nord Italia e non parliamo solo di Alpi, ma parliamo soprattutto di pianura padana. Fino all'Emilia, vero? Sì, vedi Liguria, anche Toscana, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, precipitazioni che potrebbero essere significative. Visti i contrasti parliamo di temporali che potrebbero essere violenti. Beh, arrivano quasi nel lato. Ho messo quella linea già bianca per evidenziare come appunto l'Appennino farà la barriera. Non che non ci possano essere fenomeni, perché vedi che anche da noi qualcosina può arrivare. Può anche essere che vista l'irruenza della perturbazione, alla fine possa anche essere, diciamo, assorbito anche l'abruzzo del maltempo. Però vedendo le mappe, questo parliamo del modello europeo, ci limitava, diciamo tutti i settori del centro-sud, soprattutto l'Ata Triatica, un po' più smorzato il discorso. Le temperature, vediamo invece a livello di temperature che cosa accadrà nella giornata di giovedì. Situazione stazionale per quanto riguarda le minime, con valori più o meno simili, ma non saranno... A quelli del mercoledì. Sì, ormai, diciamo, la stagione autunnale si percepisce, soprattutto sulle minime, che, viste le ore in più di notte, riusciranno, diciamo, a abbassarsi un po' di più. Come vedi, i settori aquilani ormai sono ben al di sotto dei venti e noi oscilliamo tra 19, 20, 20 gradi. Le temperature massime, invece, potranno essere uguali o anche qualche grado in più, perché potrebbe esserci un po' di ventilazione di libeccio con l'arrivo del fronte perturbato, quindi potrebbe essere un pochettino più caldo, ma non in modo eccessivo. Vediamo a questo punto, andiamo velocemente, rapidamente a venerdì, sempre andiamola a vedere a schermo pieno, così capiamo meglio dove l'Italia. Eccola qui. E che cosa accade? Accade che la depressione rimane pressoché stazionaria lì, quindi l'impulso perturbato che ci abbraccerà giovedì si sposta verso i Balcani, ho messo quella linea azzurra, quella curva azzurra a destra che va sui Balcani. E come vedi dalle frecce gialle, subito si prepara una breve rimonta anticiclonica che potrebbe essere la protagonista del weekend, ma andiamo per gradi e vediamo subito, da un punto di vista delle precipitazioni, che cosa accadrà venerdì. Si vede bene, si vede che diciamo venerdì nella prima parte di giornata potremmo essere ancora coinvolti, questa volta anche i settori adriatici, seppur poca roba perché l'azzurrino indica pioggia debole, però non è escluso che appunto ci può stare. E poi con il passare delle ore, soprattutto andando verso la sera, abbiamo la nostra finestrina. Ah ciao, Marco. Ciao, pronti? Gerani non ce l'abbiamo. Gerani non ce l'abbiamo, ti sei seccato tutto il balcone, ho visto. Sì, è questo quando non andavo. Troppe vacanze, troppe vacanze. Allora, torniamo a noi, quindi a questo punto col passare delle ore il tempo andrà migliorando e in prospettiva si attende un sabato, diciamo, che potrebbe essere forse la giornata più bella della settimana, ma prima del sabato, come già annunciato. Sigla? Cartolina e sigla musicale. Ah no, abbiamo le temperature, il Santo Pietro che ti tiene a... Quello in maggio. Ok, allora, che dire, temperature nelle minime sempre le stesse, stazionali, forse qualcosa in meno, poco poco, invece le temperature massime potranno scendere un po' di più, probabilmente, anzi sicuramente, perché avremo un venerdì ad oggi più coperto, quindi non ci sarà il raggiamento sola, esatto, meno il raggiamento e quindi le temperature tenderanno a essere un po' più basse. A questo punto possiamo annunciare la copertina. Autunno, sai perché autunno? Perché in meteorologia, lo ribadisco, l'autunno inizia il primo di settembre, finirà il 30 novembre, quindi la cartolina è dell'autunno. Quarto posto, 1969, vai Pietro. Lisa dagli occhi blu, senza le trecce non sei più tu. Mario Tessuto, sì, sì, sì. 1969? Lisa dagli occhi blu. Ti ha condizionato un po', eh, quando sei nato il Mario Tessuto. Io ancora, no, veramente, quando è esploso, diciamo, questa canzone, ancora non nascevo, perché sono nato a novembre, quindi, perché questa canzone ha avuto successo dal festival di Saint Vincent, perché ho scoperto che si faceva il festival. Il disco per l'estate. Esatto, il disco per l'estate. Io c'ero nel 69. Tu c'eri. Non è che andavo proprio all'università. Aveva nove anni, però c'ero. C'eri e ricordo che Mario Tessuto dice, secondo. Aveva una coperta in testa Mario Tessuto, un capello. Sì, sì, era. Infatti, arrivò secondo in classifica, primo albano, mi ricordo, non mi ricordo la canzone, non me la dire. Che poteva essere il 69, nel sole, no? No, non credo di no. Va bene, le canzoni famose di albano. E poi, invece, in realtà, a livello di classifica generale di quell'anno, Mario Tessuto ottenne il quarto posto. È stato un grande successo. Un grandissimo successo. Mario Tessuto viene ricordato per Lisa dagli occhi blu. Poi, nelle settimane prossime, andremo a vedere, a spulciare terzo, seconde, primo dell'anno. Vai. Torniamo a noi, allora, andiamo a vedere. Vogliamo dire il tempo di sabato? Yes, andiamo a vedere. L'ho già un po' spoilerato, però abbiamo conferma attraverso questa mappa. Eccola qui, la B rimane lì stazionaria. Eh, ce n'è un'altra, però. No, quella B, diciamo, l'ho messa in quel modo. E quella dei Balcani. Bravo, l'impulso. Vedi, oggi sei molto attento. E segui io. Segui, segui. Mentre, invece, quel tentativo di risalita dell'anticiclone, sabato, sarà in modo molto più evidente. E la faccia gialla che ci punta da solo. Punterà il naso verso l'Europa centrale, non solo l'Italia. E quindi, di conseguenza, avremo un sabato che sicuramente si annuncia più che discreto, con, diciamo, un po' su tutta la penisola. Possiamo andare a vedere anche la mappa delle piogge. Così ci rendiamo, vedi, praticamente l'Italia è quasi del tutto sgombra. Sì, ci può essere, qui lì ci sta qualcosa. In Sicilia, in Piemonte, vabbè. Sì, ma niente di che. Diciamo, complessivamente si annuncia ad oggi un bel sabato. Mi sembra pure, non lo so, a Rocca Santa Maria un addensamento. Sì, ma quelli sono addensamenti nuvolosi pomeridiani. Ci può scappare lo scroscetto di pioggia, come dici tu, nei Monti della Laga, il Gran Sasso, Maiella, insomma, può succedere. Però, niente di che, assolutamente. Lo vediamo anche con le temperature. Vediamo un po' risalto. Le temperature di sabato risalgono, eccole qui, no, diciamo più o meno. Però senza AFA, giusto? No, 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 perché ormai saremo, diciamo, comunque rimane una condizione climatica più che, essendo valori di settembre, siamo in sopramedia, poi lo vediamo con gli spaghi meteo, ma non in modo eccessivo. Comunque, quindi queste le temperature che si potranno registrare, la notte farà sempre fresco e il giorno, ovviamente, con temperature si parte all'Aquila da 12-13 gradi, è ovvio che non può fare più di tanto, infatti 24-26 in zona aquilana. Da noi 28-29, insomma, un caldo sì estivo, ma non, insomma, di quelli da forno. Esatto. Andiamo avanti con la domenica, anzi, qui ho una doppia mappa, perché... Due domeniche, no, domenica e lunedì. Due domeniche, no, domenica e lunedì, sai perché l'ho messo? Perché domenica, come vedi, l'aperturizzazione è più stazionale, ma in realtà lunedì quella B, quella, diciamo, franco-spagnola, decide di puntare verso di noi. E come mai? E come mai? Darà il via, non lo voglio dire forte perché non abbiamo le certezze, forse inizia l'autunno quello vero, la settimana prossima, ma lo diremo martedì prossimo. Sì, perché questa B potrebbe davvero questa volta riuscire a sprofondare proprio su tutto il Mediterraneo, dando il via... Quindi quella B è l'autunno? Potrebbe dare il via non ai temporali, sai che comunque sono tipici estivi, ma proprio al maltempo, almeno qualche giorno. Infatti vediamo dalle precipitazioni, ovviamente questo non è oro colato, però ad oggi abbiamo domenica che si inizia a guastare il tempo quasi fin da noi, però, da precisare, se fosse valida questa mappa, noi dobbiamo intendere come maltempo da noi per domenica la sera. Quindi la giornata, la mattinata di domenica potrebbe ancora essere... Si ricaccia bene. Esatto. Mentre invece lunedì stiamo anche noi dentro al maltempo e come vedi abbraccia tutta l'Italia, da nord a sud. Potrebbe anche essere ancora, diciamo, più acuto il maltempo rispetto a questo. Ho messo una mappa del modello europeo che è un po' neutro rispetto a altri modelli, però vedremo poi, vi invito a seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni nel mio sito, anche Super J, per vedere se, appunto, la prospettiva sarà questa. Si. A questo punto, credo, no, temperature, stavolta me lo stavo per dimenticare, le temperature non subiranno variazioni sulle minime, mentre invece le massime, proprio perché arriva la perturbazione, qui siamo a domenica, arrivando la perturbazione potrebbe esserci il vento anticipatore, vento di libeccio anticipatore. Quindi salgono un po'? La perturbazione, sì, salgono soprattutto nei settori, vedi, all'anno, scafa, lì, la solata zona arriva addirittura a 33, insomma, valori che potrebbero essere un po' più elevate rispetto al sabato. Concludiamo le previsioni con gli spaghetti meteo. Vai. Ti faccio vedere, nello specifico, perché ti dicevo, vedi, siamo su più 3-4 gradi rispetto al normale. Adesso? Adesso è per tutta, quasi tutta la settimana. Sì. Poi avremo quell'impennata di domenica, sabato, domenica, lunedì, più 5, più 6. Rispetto alla media. Rispetto alla media, che è sempre quella curva, quella linea rossa, no? Dopodiché però torneremo e probabilmente lo saremo, ecco perché parlo anche di autunno, perché lo saremo veramente in temperature coincidenti col periodo, quindi siamo più 0,5-0,5 dal periodo di settembre, cioè in seconda decode. E soprattutto da evidenziare sotto come ho messo piogge autunnali, perché mentre la settimana questa qui avremo questi episodi che non sono altro che temporalucci, così pomeridiani. Tipicamente estivi. Sì, poi invece domenica e soprattutto lunedì e martedì potremmo avere appunto maltempo tutto il giorno. Quel pomeriggio che piove. Sì, quella situazione in cui può piovere pure la mattina, a tratti, comunque insomma avrà dei connotati diversi dai temporali di calore, temporali promeridiani di questa settimana. E quindi questa è la prospettiva almeno fino a metà, perché a metà mese, perché gli spagati vanno fino a metà mese. Come vedi dopo due mesi consecutivi di sopramedia perenne fisso anche di più 8, più 10, abbiamo una situazione normale che fa notizia visto che siamo sempre stati sopra. A questo punto concludiamo con la curiosità. Oggi iniziamo a parlare di curiosità veramente spettacolari. Guarda un po' che cosa c'ho da far vedere. Un quadro di... Dietro metti a tutto schermo perché è bellissimo. Le paludi arcobaleno. Sono delle paludi in America di cipressi, cipresso calvo nello specifico. Paludi con il cipresso in mezzo all'acqua. Sì, cipressi calvi. Calvi? Calvi, come me. Cipresso calvo. Mai sentito, però va bene. Vabbè, così si chiama. Cipresso calvo. Quindi non c'ha le foglie. No, c'ha le foglie, come no? Non è in quel senso. C'ha le foglie, però che succede? Praticamente durante l'autunno le foglie, come tutti, insomma, anche da noi, cadono, ma cadono sull'acqua, cioè sulla palude. La reazione tra l'acqua e le foglie crea l'acido tannico. L'acido tannico, che è più leggero, rimane a pelo d'acqua, quindi crea una specie di pellicola, di, chiamiamolo, olio, passiamo nel termine, che una volta che arriva il raggio del sole... Anche ad occhio nudo tu mi vuoi dire che così... No, queste sono fotografie fatte... No, io sono i mazzamarilli che... No, 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 no. Cioè, nel limite possibile cerco di prendere sempre foto vere, non... Non foto truccate. Sì, esatto. Quindi si crea questo effetto. È veramente bellissimo, fantastico. Concludiamo la puntata a questo punto con, dicevo all'inizio, il record del passato di Teramo. Lo sai quali sono stati i settembre più caldi? Le giornate più calde a Teramo dal 1924 al 2023... Io ero piccolo, adesso il 63 senti un po'. Guarda lì, allora, al primo posto abbiamo due giorni, giovedì 17 settembre del 2015 e domenica 13 settembre del 1970, quando si toccarono 38,2. 70. Cioè, a metà settembre 38,2. Poi abbiamo, al terzo posto, il 2008, 7 settembre, con 36,8. Ancora 36,6 nel lontano 1946. Non c'eri? Non c'ero. Non c'eri. Sabato 7 settembre. Pensi che mio padre ci aveva... No, 24, 46, 22 anni. E tra l'altro credo che non è che ce n'erano tanti degli spettatori che ci stanno vedendo, non è che ce ne sono... Beh, 46. Vabbè sì, vabbè sì, ci stanno. Vabbè sì, ci stanno, sì, sì. In anno nel 40, che c'ha poco più di 80 anni. Sì, sì, sì. 36 gradi, comunque non so, ma ne sono pochi. Sì. 36 gradi, giovedì 21 settembre, al quinto posto, parliamo del 2000. Quindi, come vedi, anche in passato... Quindi ha fatto molto caldo nel 70, quant'è? Nel 70? 38. No, no, nel 46, molto caldo. Cioè, parliamo di una giornata... 38,2, dove eri il giovedì 17 settembre? Il 2015, io... Te lo ricordi? Ma non lo so. Che fece 38,2, visto che mo... Non lo so, probabilmente... Non te lo ricordi. No, non me lo posso ricordare. Faceva caldo. Sì, faceva caldo, ho capito, però non è che me lo posso ricordare. Sicuramente stavo a lavoro, suppongo, a meno che... Era giovedì, che giorno era? Era giovedì, stavo a lavoro. Io, sicuramente, lavoravo all'università. E quindi stavi già con l'aria condizionata. Sì, appunto. Non mi sono reso conto più di tanto. Bene. Ok, questo, praticamente, con questo abbiamo concluso, perché siamo arrivati alla fine. Oh, va bene. In tempi anche super veloci. Tempi eccezionali. Eccezionali. Ma quindi noi ci rivediamo già martedì prossimo. Possiamo dare già appuntamento a martedì 10 settembre. 10 settembre. In cui, se queste mappe verranno confermate, saremo veramente nell'autunno in senso vero. Perché, come vedi, questa settimana, più o meno le massime 28, 29, 30, quindi l'idea di... Cioè, Maniche Corta è... Invece, se la settimana prossima sarà così... Ci vuole il golfino la sera. La mattina e la sera, forse... I cotone. Sì, potrebbe essere una buona idea. Va bene, lo faremo. Ok. Ci vediamo la settimana prossima. Il 10. Grazie Pietro, grazie a tutti voi che ci avete seguito. Arrivederci. Ciao a tutti. Grazie a tutti.